A provare subito il Parco Marino regionale, il Comitato Nombrina lancia un nuovo urlo d'aiuto ai vertici della regione e a tutti i rappresentanti politici abruzzesi. Il 14 ottobre a Roma si svolgerà la conferenza decisoria sulle trivellazioni a largo delle coste italiane e la regione Abruzzo ora può scongiurare il rischio solo costituendo un'area protetta in mare. Perimetrando sopra il mare un'area protetta. Nelle aree protette non si possono fare progetti di perforazione di pozzi petroliferi. Il governo si dovrebbe bloccare, magari potrebbe voler andare avanti ma ci darebbe tante armi a quel punto per bloccarlo anche perché sarebbe interessante che il governo espliciti chiaramente che vuole difendere gli interessi dei petrolieri inglesi preferendolo al rispetto della tutela del mare. Inutile pensare ad un referendum secondo i rappresentanti del Comitato Nombrina che nel caso in cui non venisse approvato il Parco Marino lo paragona al proverbiale cancello chiuso con i buoi già scappati. La sua valenza non sarebbe retrattiva e dunque l'appello è quella alla mobilitazione a Roma per il 14 ottobre comprese tutte le istituzioni regionali. Noi invitiamo i cittadini a partecipare comunque al sit-in che faremo davanti al Ministero di Sviluppo Economico il 14 ottobre di contattarci ma soprattutto pensiamo che il Presidente D'Alfonso, tutti i consigli regionali, i parlamentari abruzzesi debbano presentarsi insieme ai cittadini per difendere gli interessi abruzzesi. Forse sarebbe invece di chiedere il referendum sarebbe anche più semplice che i parlamentari di maggioranza della Puglia, dell'Abruzzo, del Molise, delle Marche si coalizzassero e in Parlamento in dieci giorni cambiano le norme. Lo possono fare tranquillamente perché quando gli interessa abbiamo visto che lo fanno anche molto velocemente.